Noi stiamo adesso da... We are at Burlington Burlington E we will give up in my nice Christmas list La famiglia intera ha vestiti in pigiama Ma comunque ci sono tantissime cose già fatte di regali per dare Confezioni, già tutto confezionato Oh la cosa di Coca Cola che è cool, quello mi piace A me mi piace la Coca Tutti set di coca cola Allora andiamo qua Gingerbread cottage kit Pure panettone c'hanno Let me get my wish list first Let me get my Christmas list first La naga si portata la lista Allora io posso prendere qualcosa per luis Che sta la mia wish list qua Allora andiamo Noi Patto Questa Se voi sape luis, lui è il mio cugino Oh mamma mia, lì ha questi Oh hai ragione Se significa che ha quello forse Se ha quelli Si ha due e uno di questi Oh Quello la Quel colore E lì è brillo così E lui lo ha No, no, no Non vuole Non vuole prendere Non vuole prendere Ecco Vari vestiti per Natale Questi sono carini Ti devo portare a fare foto di Natale Guarda queste Sono panze Questi qua sono molto carini Non mi ha 29 dollari Guarda qua, queste cose sono lungo pure Oh mia, più lungo di me Sì 만i Oh ok allora noi abbiamo appena freddo questo pijacca non è? non è così bello? non è Rudolph un little Rudolph outfit e questo è un po' e questo è un po' noi non ci vediamo 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 la Natale ha portato a noi last year per Jack e l'ha trovato qua e io ho trovato il shampoo pure che lui ci aveva dato e era Walmart wow tante cose qua di Natale non ci vediamo alle i miei bambini no i piccoli rindeers i piccoli io ho detto che questo era una no no io ho detto che questo era una giacca come giacca giacca per persone però non è e anche le potezzi qua potezzi potezzi Questa è così carino, guarda qua. Questa è una giacca. Giacca per cane. Per decorare i bagni, natalizio. Di qua vans ready. Oh, this is so cute. A Mickey Mouse lufa, a Mickey Mouse bath towel, and a washcloth set. Carino. What size did you need again? Per cosa? Per bedsheets. Clean. Hmm, carino. Let's go. Oh, this is a legume per l'albero. You mean, go on up with me. Per l'albero di Natalya, Paz. No, I don't know. Well, that could go better with me, right? Dovremmo prendere questo, this house believes. Guarda come è grande questo scarpe. Mettilo come altezza. The size of my boat, all the way up to my boot. Oh, yeah. Mama mia. Still got another way. All right. Oh, wow. This is heavy, too. Tanti tipi di trucchi, Kit. Kit di trucchi. Per chi piace le marche di Opie, qua ci sono tantissime, tantissime piccole kit di Opie. Opie, un grease one. Whoops. Guarda, grease. Che cool. Leggings per Natale pure. Tutti quanti se li mettono, non tutti, ma tanti. Stiamo ancora qui da Burlington Co-Factory. Guardate tutte le cose che hanno qua dietro di marca. Abbiamo Bebe, Calvin Klein. Costano pochissimo. Danica vuole essere uguale a me. E allora stiamo prendendo tutti e due questi qua di Bebe. Cute, eh? E costano solo... Come sta il prezzo? Avevo visto il prezzo prima. Penso alle 16 dollari. Oh, wow. E hanno pure Juicy Couture. Come si chiama qua? Kate Spade. Pochissimo prezzo. Questo mi piace, Daydreamer, di Kate Spade. Che se lo prendi nel legato di Kate Spade, che costa 68. Prendendolo qua lo spendi 17 dollari. Pure Juicy Couture che costa di solito tantissimo. 15 dollari per quello. Oh, quello è carino pure. I mean, hanno pure con guanti che sono miei soft come questi qua. Ok, allora non siamo, non saremo più uguali. No, quanto costa cosa costa, quanto costa, quanto costa. Però questo qua mi piace tanto di Kate Spade. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Allora, andiamo. Grazie a tutti.